Mi ricordo di nuovo, buonasera da Ligio, qui da una redazione, siamo con una rete, tre, cinquanti anni, l'ho, vincente. Ci abbiamo questi due, ravigliosi, e secondo me, vabbè, sì, ravigliosi. Mi ricordo di nuovo, mi ricordo di nuovo, mi ricordo di nuovo, mi ricordo di nuovo, ma bella. Grazie a tutti. 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 Ed è tutto per questa edizione di Giora 24, il prossimo appuntamento a metanotte. Grazie a tutti. Grazie a tutti.